incredibile però vero ogni tanto un po di promozione non fa male non insegna di attenzione per i clienti l'officina ufficiale è assolutamente indispensabile è molto importante per quanto riguarda soprattutto i ricambi qui vengo a colpa sicuro mi garantisce che la macchina sia sempre perfetta uno la porta al mattino alle pomeriggio è pronta quattro litri e mezzo quattro litri non so secondo me 5 25 centesimi circa 0 20 0 25 centesimi insomma è un affare si ci siamo e e e e e e